niente la dò qua a brasilia buonasera a te da dove chiami? da spoleto? vicino l'unico che rispetto è al gero e che cazzo? ma tu sta parlando fratelli ma tu mi fai spaggiatore oh dai ti chichi che giurca mi fai martufello mi fai mi fai martufello mi fai mi fai martufello e giamburacca va bene va bene ma lui te ce fa un bel bocchino zitto co***e ma voi si è buona se è di solo quello voi con questo nato di così cacchi da tutti mi fai spaggiatore oh lui te dico che vede solo la frappa fratelli ti vedi ma ricordo ma lì la sta a denaro lui te fratelli e se sta sputa pure dentro casa fa lo vedi ma che c'ha ma com'è che dentro casa c'è luci spette c'è solo la luce che ti è andata fuori che ha fatto costa 4 euro la luce a quella venta una lampadina costa 4 euro e 50 fratelli se no pure tu candele oh si metta lì banna di questo manno lì no tu 5 euro ti vanno io fratelli basta che te ce compri le cigarette però no basta che te ce compri 5 euro di lenta però la lenta fa male lì a spoleto siccome c'ha del cazzo una fa devi imparare la lenta lì capito come vaffanculo il brasiliano devi imparare la lenta devi imparare allora raga se volete chiamare brasiliano il numero del brasiliano è 3 3 4 7 5 4 5 allora il numero del brasiliano 3 3 4 7 5 4 5 9 6 3 vabbè ma senti ma questo mannoia sto carciofo mannoidio tanto c'è spoleto vado lì vabbè te ne va ciao ciao mamma mia